Ciao! Lo sai che Ortopedia Falcone ha aperto un negozio anche a Fano? Ah sì! Un nuovo punto vendita dopo quello di Piazza Redia Pesaro? Sì, esatto! Entrambi i centri sono specializzati nell'analisi e rieducazione della postura, nella prevenzione degli infortuni nello sport e nella cura delle diverse patologie del piede e della colonna. C'è anche un laboratorio interno per la produzione di plantari ortopedici sportivi, tutori e protesi di arti superiori e inferiori. Per non parlare della varietà degli articoli sanitari e del noleggio di vari ausili per la mobilità e la riabilitazione, Ortopedia Centro Posturale Falcone, a Fano e Pesaro, ogni giorno a tua disposizione.